ciao ciao che figo il fotografo il fotografo la metti su facebook la metti su facebook oh è il tuo mi devi chiamare mio padre aquila aquila how is she how is she how cool no eh come non è il tuo cane era ho però ma abbiamo due pregnancy siamo anche abbiamo due ma è che fosse no non lo l'arruzza non è erstmal